Una mattina, no una sera, sono tornata dopo un giro che avevo fatto, avevo fatto una spesa, erano andati a mangiare fuori, sono andata a dormire, man di gambe, fastidio, mi sono svegliata e non mi sentivo più. Sono passati due anni da quel giorno, Sofia Riccaboni nel frattempo ha perso il lavoro, l'azienda nella quale lavorava infatti non le ha rinnovato il contratto. E senza uno stipendio fisso, è impossibile mantenere se stessa e i suoi figli. Sofia da due anni è in sedia a rotelle e da adesso si è trovata di fronte ad un altro ostacolo. Su di lei pende infatti uno sfratto che sarà eseguito la prossima settimana, a meno che non si trovi una soluzione. Una pensione di validità che però non è un accompagnamento, è una pensione, quindi sono circa 290 euro al mese. Io non ho un accompagnamento perché sono un 75%, quindi ho una sclerosi multipla, non so, malissimo secondo la ASL, quindi non ho un accompagnamento, quindi io vivo con quella e con l'aiuto dell'associazione, appunto l'ancora che dicevo prima, che mi aiuta effettivamente tanto anche facendomi la spesa, pagandomi le bollette. Ogni tanto chiamo Don Severino, mi dà il pacco d'alimenti, se ho bisogno di qualcosa per vestire la bambina non ho vergogna a chiedere o amiche che mi danno qualcosa, però sì, io vivo con quello. Il lungo calvario di Sofia, fatto di assistenti sociali, va avanti da mesi. Un lungo pellegrinaggio alla ricerca di un lavoro e soprattutto di un appartamento dove poter traslocare ed abitare serenamente. Ad oggi nel comune e nell'agenzia sociale sono riuscite a trovare una soluzione adatta alle sue esigenze. Mi è stato detto che hanno degli alloggi d'emergenza, ma anche questi alloggi non sono accessibili in proprio grado di accessibilità disabile. E davanti alla proposta di un'associazione, dell'associazione Lancora, dottor Moliterni, di renderlo accessibile, quindi di attrezzarlo, è stato risposto che non è possibile farlo. L'agenzia sociale per l'affitto non ha appartamenti in questo momento in gestione. E per quello che ho sentito anche tramite la dottoressa Pepi, mi diceva che comunque difficilmente ne hanno accessibili. e non possono chiedere ai proprietari, che in quel caso sono privati, di attrezzarli. E quindi anche lì non c'è una soluzione effettiva. L'assistente sociale ha fatto una proposta che è quella di trovare io un appartamento in modo indipendente, anche a un affitto superiore a quello che tecnicamente io avevo proposto, e poi fare una proposta al comune di subentrare alla differenza per pagare l'affitto. Però anche questa è una proposta che mi è stata fatta a voce, di cui io non ho riscontro da parte del comune effettivamente. Io così per ora sono nel stai tranquilla, tanto non succede niente. E nel frattempo le carte sono andate avanti e siamo arrivati al punto che in teoria io il 3 di ottobre dovevo lasciarla a casa.